Benvenuti carissimi amici al nostro appuntamento settimanale con lo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica attraverso le domande del compendio. Da qualche tempo, da due trasmissioni, adesso siamo alla terza, stiamo approfondendo un'unica domanda molto importante che si colloca all'interno della parte seconda, sezione prima, capitolo secondo del Catechismo, la celebrazione sacramentale del mistero pasquale, quindi stiamo parlando dell'economia della salvezza, cioè del modo con cui Dio guida la sua famiglia, che è il popolo di Dio, e appunto l'economia sacramentale, cioè attraverso dei segni che comunicano materialmente il suo spirito, ecco, e la potenza della della sua grazia. Siamo al numero 241 che fa parte di queste tre domande che cercano di rispondere a una domanda generale, quando celebrare? La domanda 241 è qual è il centro del tempo liturgico? Abbiamo già visto che il centro del tempo liturgico è la domenica, fondamento e nucleo di tutto l'anno liturgico che ha il suo culmine nella Pasqua annuale, la festa delle feste. Quindi abbiamo fatto un escursus approfondito su questo tema, anzitutto parlando della necessità per l'uomo di celebrare, abbiamo ripreso questo argomento che avevamo lasciato qualche tempo fa, prima della lunga pausa che ci ha separato dalla ripresa di questo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica, la necessità per l'uomo di esprimersi anche attraverso la celebrazione, che è la modalità con cui l'uomo riesce, in qualche modo, almeno a esprimere il suo desiderio di infinito, a manifestare la sua capacità di Dio. L'uomo è capax dei, dicevano gli antichi padri, cioè capaci di Dio, se non altro perché ha questo desiderio profondo che egli proietta al di là del cosmo e di raggiungere l'assoluto, raggiungere l'infinito e di captare anche le onde, le vibrazioni di tante realtà misteriose, nascoste, che non riesce a comprendere ma tuttavia intuisce, percepisce in qualche modo e attraverso il rito la celebrazione riesce anche a manifestare, se non altro, in questa esigenza profonda che, come abbiamo visto, non è mai compiuta, non si realizza mai pienamente nella dimensione dello spazio del tempo, ma risponde al bisogno profondo dell'uomo, il celebrare, perché nella celebrazione l'uomo riesce a connettersi con queste realtà che superano la sua capacità di comprensione e nello stesso tempo ne definiscono in qualche modo anche la genialità umana, quella di essere proprio capace di questo senso religioso, di questa apertura del cuore, della mente all'infinito. Abbiamo poi visto come la domenica sia giorno del Signore e della Chiesa, abbiamo visto i nomi della domenica e quest'oggi parleremo del cuore della domenica. Qual è il cuore della domenica? Se la domenica è il centro del tempo liturgico, il centro della domenica, il cuore della domenica, lo sappiamo tutti, è la celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica, la messa, che ha tanti nomi, vedremo anzitutto i nomi quindi della messa e poi passeremo in rassegna quella che è la struttura globale della messa. Certamente chi va a messa conosce bene la struttura della messa, ma non sempre coglie il significato anche di questo schema, di questa struttura sequenziale che è propria della messa romana. Quindi è bene almeno una volta nel nostro itinerario di comprensione, di approfondimento dei contenuti della fede cristiana, cattolica, soffermarci almeno una volta ad analizzare la struttura della Santa Messa. Prima però vediamo quali sono i nomi della messa perché nella sua storia la messa ha avuto tanti nomi, nomi diversi, ognuno dei quali ci mostra una dimensione particolare, nello stesso tempo fondamentale del mistero dell'eucaristia. Sono nomi che troviamo nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, ma anche nelle diverse tradizioni della preghiera della Chiesa e nell'insegnamento teologico. Il primo nome che troviamo attribuito al cuore della Domenica, la celebrazione eucaristica, è la cena del Signore. Ne parla San Paolo quando scrive la sua prima lettera alla piccola comunità di Corinto, questa comunità di una cinquantina di persone, forse ai tempi della prima lettera, inserita in una metropoli, allora la terza dopo Roma, chiaramente, dopo Alessandria d'Egitto, c'era Corinto, mezzo milione di abitanti ai tempi di San Paolo. Una città commerciale, la New York del tempo, potremmo dire una città anche di grande cultura, di grandi scambi culturali, di grandi interessi. Una città moderna per quei tempi e in questa grande metropoli, questa piccola comunità cristiana, tuttavia molto vivace, nella quale si celebra la cena del Signore, si celebra alla sera, come avvenne per l'ultima cena, per diverse altre cene fatte in compagnia di Gesù, quando egli si lasciò vedere dai discepoli tra la risurrezione e l'ascensione. I racconti di queste cene non sono pochi, questo pasto in senso letterale viene chiamato appunto la cena del Signore. Il nome ci ricorda che la messa, anzitutto, è un pasto presieduto da Gesù, costituito Signore e Cristo dal Padre, nella potenza dello Spirito Santo. E facendo questo pasto rituale, che è anche un pasto conviviale, chiaramente, il Signore Gesù non ha fatto altro che realizzare quello che era il sogno manifesto di Dio fin dai tempi, non solo dell'Esodo, ma si intuisce già anche nei racconti di creazione questo desiderio dell'uomo di passeggiare, questo desiderio di Dio, scusate, di passeggiare con l'uomo nel giardino, quindi di intrattenere con lui un rapporto conviviale, ma in maniera più marcata e specifica nel libro dell'Esodo al capitolo terzo, quando Dio, rivelandosi a Mosè dal rovetto ardente, dice servirete Dio su questo monte, riferendosi chiaramente al Sinai, e questo servizio, nel testo ebraico, nell'accezione ebraica, indica un vero e proprio servizio liturgico che alla fine, nella vicenda, nell'epopea dell'Esodo, si realizzerà di fatto nel pasto conviviale che verrà organizzato proprio ai piedi del Sinai in occasione della manifestazione anche della legge delle dieci parole sul Sinai, questo grande sacrificio, questo sacrificio di lode che è anche un sacrificio di comunione, attraverso il quale si esprime la volontà di Dio nel solco di una tradizione tribale di questi popoli nomadi, di questi popoli di pastori, di essere commensale alla messa di queste tribù, di queste famiglie, per creare lui stesso una famiglia di famiglie, il popolo di Dio. Quindi è importante questo fatto che il primo nome della messa sia quello di cena del Signore perché la messa realizza il desiderio di Dio, detto in maniera molto diciamo, non dico volgare ma molto semplice, è un po' il desiderio del papà che è anche della mamma, magari diventati anche un po' anziani, che amano alla festa o almeno nelle feste più importanti attorniarsi dei propri figli e dei propri nipoti perché questo dà grande gioia a loro, al loro cuore, mi consola, ma fa bene anche ai figli perché nutre quel bisogno di appartenenza che dà equilibrio alla vita, che la riempie anche di serenità, di pace, ecco la certezza di un'appartenenza forte, permette a una persona anche di crescere dentro un flusso di libertà, di gioia, di serenità perché se le radici sono ben piantate, ben profonde possono succhiare quella linfa di vita e anche quella eredità ricca, fatta anche di storie, di tradizioni, di cose buone che permettono poi alla chioma di estendersi florente e anche fruttuosa. Quindi la cena del Signore corrisponde alla storia della salvezza nella quale sempre Dio ha manifestato questo desiderio mai realizzato in fondo o fino in fondo nell'Antico Testamento, mai compiuto fino in fondo, di poter dire beati gli invitati alla cena del Signore, quindi di circondare i Suoi figli di questa benedizione della convivialità, della commensalità. E in questo senso che Apocalisse al capitolo 19 siamo ormai al culmine della rivelazione biblica storica della storia della salvezza, è scritto scrivi beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello, quindi c'è una beatitudine legata a questa commensalità, alla cena del Signore e di fatto la Chiesa che è riunita per celebrare rappresenta il modo migliore di manifestarsi e mai si manifesta in maniera così evidente come quando essa l'Assemblea, l'Ecclesia in greco, si lascia traboccare e avvolgere dal mistero che celebra, quindi diventare commensali fa sì che anche la Chiesa manifesti in maniera traboccante e avvolgente la sua appartenenza a questo grande mistero di Dio che si rivela come amore. Questo quindi è il primo termine, il primo nome che diamo alla Messa e il secondo è la frazione del pane, l'espressione a qualcosa di seducente con la sua semplicità ma richiama il nome originale del nuovo culto dei cristiani che si immerge proprio in un clima fatto di bellezza, di semplicità nella preghiera liturgica di questa Chiesa nascente e anche nello stesso tempo di gravità e solenità. Già nel mondo giudaico la frazione del pane era un gesto di grande portata compiuto secondo un rituale fisso e stilizzato, il gesto era compiuto nel contesto di un pasto di festa del giudeismo, il pasto del sabato oppure il pasto festivo di amicizia chiamato shaburah e anche adesso questo gesto ha un grande valore simbolico, alle volte viene ripetuto anche in altri contesti, tempo fa un amico della parrocchia di Tavernelle mi raccontava come al termine del suo cammino lavorativo il giorno in cui iniziava la pensione ha voluto con i suoi colleghi compiere questo gesto molto evocativo dal valore fortemente simbolico di spezzare il pane e di distribuirlo, è un segno di condivisione, di comunione che dice più di tante parole ecco come compiere questo percorso fatto insieme con tanti compagni colleghi dicendo loro che non c'è stato solo un rapporto funzionale al lavoro ma che abbiamo compartito il pane e in fondo vuol dire abbiamo condiviso una vita e questo è importante ci nutriamo dello stesso pane e questo ci unisce. La frazione del pane e questo rito conviviale è diventato rito nella liturgia eucaristica in forza di tutto quello di cui Gesù l'ha caricato perché Gesù ha assunto questo gesto. Esso raduna una comunità in un determinato luogo per esempio a Troade i fedeli sono radunati attorno a Paolo nella frazio panis nella frazione del pane quindi sono radunati intorno a un apostolo nella gioia della fede della carità fraterna per una celebrazione accompagnata da un lungo tempo di accoglienza della parola di Dio e di insegnamento e quindi anche da un pasto fraterno già qui è delineata la base della liturgia eucaristica che comunque viene tratteggiata anche nei discepoli nel racconto dei discepoli di Emmaus poi ne parleremo quando parleremo della struttura della messa. Fa riferimento questo verbo spezzare il pane anche ad alcuni avvenimenti che Gesù stesso ha messo in atto quando per esempio ha moltiplicato i pani e i pesci e quindi anche per esempio nella stessa esperienza di Emmaus si è lasciato riconoscere nello spezzare il pane quasi anche ci fosse un modo proprio di Gesù di spezzare il pane che lo rendeva riconoscibile. Un altro nome che viene dato al cuore della domenica alla messa è eucarestia. Eucarestia che significa sia sta a indicare sia l'azione della messa che gli elementi il pane e vino consacrati destinati alla comunione dei fedeli. Il verbo che designa l'azione fare eucarestia o rendere grazie eucaristeine in greco oggi per molti significa semplicemente dire grazie ma questo questa riduzione diciamo che non è errata è però approssimativa perché non si tratta semplicemente di dire un grazie con un'offerta ma ciò implica anche un'azione di oblazione di se stessi cioè eucarestia richiama Gesù che si è fatto un'immolazione si è reso si è immolato per noi come sacrificio d'amore al padre per la salvezza dei fratelli quindi la teologia della messa sacrificio e nello stesso tempo azione di grazie si traduce nell'espressione sacrificio eucaristico che forse è l'accezione più completa per descrivere che cos'è la santa messa col rischio appunto se evitiamo questa accezione del termine sacrificio utilizzando solamente quello della cena o della frazio panis o dell'eucaristia come dire grazie rischiamo di dimenticarci anche di questo connotato importante che è appunto l'azione sacrificale di cristo che rende significativa infinitamente significativa questa azione eucaristica questo termine eucaristia compare prima della fine del primo secolo dopo cristo per designare la eucaristica durante la quale sinanzia a dio l'azione di grazia dei redenti e nella quale diventano eucaristici il pane e il vino offerti in ricordo della passione risurrezione del signore infine abbiamo la messa la parola messa che molti di noi non sanno che cosa significhi magari la prendono così per buona ma questa parola messa ha un significato molto importante perché in latino messa missa significa invio significa essere mandati per cui quando il prete dice la messa è finita andate in pace sbaglia perché non è finita la missione l'essere inviati ma anzi inizia loro dovrebbe dire la messa comincia adesso andate ecco vivete questo invio questa messa però è anche vero che probabilmente anzi sicuramente questo chiamare la celebrazione eucaristica messa dal latino mittere missa vuol dire appunto inviare e designerebbe l'essere rivolti l'andare verso il padre l'andare verso il padre con delle preghiere innalzate al padre dall'altare alla presenza dell'assemblea per esempio nel diario di viaggio di eteria che sappiamo essere questa pellegrina del quarto secolo che viaggiò nelle terre di gesù e lasciò questo splendido questa splendida testimonianza di viaggio utile anche oggi per gli archeologi per individuare tanti posti sconosciuti che sono stati scoperti grazie a questa testimonianza antica nel diario di viaggio di eteria la parola missa significa sia il congedo la messa è finita andata in pace ma nello stesso tempo l'oblazione eucaristica cristo che è sacrificato al padre è inviato appunto al padre è messo davanti al padre per usare una parola italiana che richiama quella latina per salvare redimere il popolo dei fratelli quindi questa questa parola messa che noi usiamo più di tutte ha un significato molto importante e alle tante volte che può anche mettere in crisi il modo con cui viene concepita la messa perché tante volte la commessa viene proprio percepita come qualcosa che si conclude lì qualcosa da fare qualcosa di chiuso un dovere da ottemperare un precetto da osservare mentre invece è una missione è una missione è un invio è una missione offrire gesù al padre gesù che viene inviato l'inviato del padre che viene inviato al padre per redimere gli uomini e soprattutto questo sacrificio eucaristico che è fatto di parola di dio e di pane di vita che ci invia nel mondo per essere a nostra volta una messa vivente cioè essere noi stessi parola di vita e pane di vita bene adesso prima di parlare della struttura della santa messa ci dedichiamo a una pausa musicale nella quale ascolteremo questo bel canto del rinnovamento nello spirito dal titolo come tu mi vuoi ho scelto questo canto perché all'interno di esso appunto si parla della messa si dice manda me ecco c'è questa invocazione manda me quindi rendi me una messa vivente è un canto che anche ha il sapore della liturgia eucaristica perché potrebbe essere utilizzato come canto di introito nella processione d'ingresso della santa messa proprio perché è un invito a andare al cospetto di dio per fare la sua volontà per trasformare tutta la propria vita in quella parola in quel pane che lui ci dona per poi essere mandati quindi questa disponibilità a lasciarsi plasmare attraverso la celebrazione liturgica per poi essere nel mondo ciò che si è celebrato nella preghiera ascoltiamo dunque questo canto e quindi Eccomi, Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà. Eccomi, Signor, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vi dirò, se tu lo vuoi. Signore, manda a me, e il tuo nome annuncerò, dove tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò. Eccomi, Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, dove tu mi vuoi, io sarò. Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, dove tu mi vuoi, io andrò. Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, dove tu mi vuoi. Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, dove tu mi vuoi, io andrò. Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, eccomi, Signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, signor, vengo a te, mio re, che si compone la tua volontà, dove tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io sarò. Questa vita io voglio donarla a te Per dar gloria al tuo nome mio re Dove tu mi vuoi, io sarò Dove tu mi vuoi, io andrò Se mi guida il tuo amore, paura non ho Se sempre io sarò Come tu mi vuoi Come tu mi vuoi Come tu mi vuoi, io sarò Come tu mi vuoi, io sarò Come tu mi vuoi, io sarò Come tu mi vuoi Bene, in questa seconda parte, come già vi avevo anticipato, parliamo della struttura della Santa Messa. Chi partecipa alla Messa ormai ce l'ha abbastanza dentro Questa sequenza, questa struttura, questo schema della Messa Romana Anche se non sempre ne conosce bene il significato Diciamo che a grandi linee la celebrazione eucaristica riflette l'esperienza dei discepoli di Emmaus ma non solo, cioè nel Vangelo abbiamo diversi esempi che in qualche modo costituiscono una sorta di matrice simbolica o evocativa di ciò che poi verrà codificato, ritualizzato nella liturgia Per esempio abbiamo anche i racconti di moltiplicazione dei pani che ci raccontano che prima Gesù nutre la folla con la predicazione pensiamo per esempio tutto il capitolo sesto di Matteo dell'Evangelista Matteo che appunto condensa una serie di detti, di parabole e anche di indicazioni che Gesù offre attraverso la predicazione ci sono dentro anche le beatitudini e poi una volta svolta questa sorta di liturgia della parola il Signore Gesù nutre anche fisicamente il suo popolo che lo ascolta con la moltiplicazione dei pani che richiama senz'altro nel gesto che gli fa di benedire, di spezzare il pane anche l'azione liturgica della messa che poi si delineerà quasi subito nell'esperienza della Chiesa con queste caratteristiche sono più chiare queste caratteristiche forse perché c'è già anche una prassi abbastanza consolidata dell'Evangelista Luca il quale appunto è già anche beneficiario di una certa esperienza ecclesiale a servizio di San Paolo questo è il segretario di Paolo che nel racconto dei discepoli di Emmaus mostra molto bene due momenti ecco due momenti uno in cammino di questi due discepoli che scappano da Gerusalemme dopo la passione e la morte di Cristo probabilmente tornano alla loro casa o alla loro borgata questo paese distante circa 11 miglia da Gerusalemme e lungo il cammino si accosta a questo viandante e comincia a interloquire con questi discepoli narrando ciò che nelle scritture nella Torà, nei profeti si riferiva a ciò che essi avevano vissuto quindi attualizzando la storia della salvezza nella esperienza, nella circostanza stringente che loro stavano sperimentando di grande sofferenza poi questa liturgia della parola in cammino diciamo così si condensa nell'invito ad entrare in casa da parte di questi due discepoli dove Gesù attualizza proprio quella che è la frazio pane cioè spezza il pane e i due lo riconoscono allo spezzare del pane quindi abbiamo questi due grandi colonne che sono le due mense sono le due colonne portanti io le chiamo sempre così con i bambini come costruire una chiesa diciamo che gli scalini sono i riti di ingresso per entrare in questa chiesa poi abbiamo due grandi colonne una è la mensa della parola l'altra è la mensa dell'eucaristia la liturgia della parola la liturgia eucaristica e poi sul tetto abbiamo i riti di comunione e di conclusione che concludono il rito e così disegniamo un piccolo tempio classico diciamo e capiamo che cosa è la messa e i riti di introduzione e partiamo da questi scalini che ci introducono in questa architettura liturgica sono molto importanti questi riti aprono l'azione liturgica introducono e preparano ad esse il rito della spersione con l'acqua santa ha il merito di significare subito una comprensione globale della messa dell'assemblea rito penitenziale ricorda che sono dei battezzati coloro che si riuniscono per fare memoria di Cristo per ascoltarlo professare la propria fede e accoglierlo ecco perché è importante specialmente in occasioni particolari all'inizio della messa fare il rito della spersione che richiama il battesimo a me piace qualche volta con i bambini mostrare come lo schema della messa in fondo riflette una sequenza di atti che noi poniamo in atto sempre quando andiamo a far festa in qualche famiglia prima di entrare bussiamo la porta chiediamo permesso ci puliamo le scarpe sullo gerbino quindi questo sarebbe un po' i riti di saluto l'atto penitenziale poi c'è la grande dossologia viene chiamata così il canto del gloria che è il momento in cui si gode del fatto di trovarsi insieme non si si mette subito a tavola si sta un po' insieme magari in salotto si beve un aperitivo ci si parla un po' di come va la vita e poi con calma ci si accomoda sulla tavola imbandita per consumare progressivamente le varie pietanze della cena e in fondo ogni volta che noi ci troviamo per fare questo tipo di pranzi o di cene c'è sempre questo schema anche il congedo in genere è molto curato magari con qualche regalo con qualche dono che ci si scambia e poi il saluto e la promessa di rivedersi ancora qualche proposito che riguarda il nutrimento di questa relazione di affetto che ci unisce a questa famiglia che ci ha invitato a cena in fondo anche le nostre cene quotidiane queste feste che si fanno tra famiglie tra amici rispondono allo stesso schema hanno lo stesso schema della messa che in fondo non è altro punto come abbiamo visto che un pasto conviviale una cena con il Signore naturalmente nel suo cuore è un sacrificio eucaristico lo sappiamo però alla forma di un pasto conviviale di un sacrificio di comunione e di fatto dal punto di vista ecclesiale avviene nella messa un dialogo tra Dio e il suo popolo in vista della comunione realizzata dal sacrificio eucaristico la messa è un dialogo continuo è tutto un botta e risposta un parlarsi un rispondersi un ascoltare accogliersi e anche donarsi reciprocamente tra Dio e il suo popolo con le parole di accoglienza il rito penitenziale il gloria la preghiera iniziale la colletta in un certo senso si tratta di un dialogo di un dialogo che avviene costante che poi continua anche in questa forma anche nella liturgia della parola ma anche nella liturgia eucaristica perché se noi guardiamo per esempio la liturgia della parola abbiamo la prima lettura è Dio che parla al suo popolo il popolo risponde con il salmo responsoriale si chiama appunto così in cui utilizzando parole rispirate da Dio parla il popolo viene quasi aiutato a parlare con Dio Dio stesso gli mette in bocca queste parole che altrimenti non saprebbe esprimere subito così di impatto poi di nuovo la seconda lettura che in genere è un'epistola del nuovo testamento una lettera degli apostoli e poi abbiamo la risposta in preparazione all'ascolto del Vangelo con l'alleluia quindi il Vangelo l'omelia che cerca di attualizzare quanto si è ascoltato di vedere come la parola di Dio parla a noi oggi e poi come risposta l'atto di fede la professione della fede la preghiera dei fedeli quindi vedete che è tutto un dialogo è un dialogo orizzontale Dio che quasi si mette al nostro piano anzi lo fa comunicando con noi attraverso la parola e accogliendo anche la nostra risposta fatta di parola poi il dialogo diventa verticale quasi a formare una croce dialogo verticale tra noi che per esempio nell'offertorio portiamo a Dio i nostri poveri doni che sono il segno della nostra fatica quotidiana del nostro lavoro il pane e il vino e Dio che scende scende dopo questa offerta dei nostri doni scende con l'epiclesi con l'invocazione dello Spirito Santo che si fa durante la consacrazione perché questi doni si trasformino in Lui una volta che diventano corpo di Cristo a nostra volta lo offriamo al Padre nella dossologia per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli è il momento in cui la vittima sacrificale che è misticamente presente nel pane e nel vino consacrati viene offerta dal sacerdote a nome di tutto il popolo al Padre quindi potremo proprio affigurarci anche questa offerta del Cristo esangue tolto dalla croce come la Madonna lo teneva tra le sue braccia e molte raffigurazioni vediamo questa immagine così cara anche all'affetto alla devozione popolare così il sacerdote per il popolo offre quella vittima che noi stessi abbiamo in un certo modo crocifisso ecco con i nostri con i nostri peccati ecco ma questa azione diventa redenzione per la potenza dell'amore di Cristo che si consegna che si trasmette proprio il termine del Vangelo era nell'ora in cui veniva tradito ecco il tradere in latino vuol dire consegnare nell'ora in cui veniva consegnato ancora oggi Gesù si consegna nella celebrazione eucaristica e rinnova questo atto estremo e supremo di amore che ci salva offrendosi a noi e poi noi così come come vittima d'amore lo offriamo al Padre perché la potenza di questo amore ci sani ci salvi ci liberi da tutte le schiavitù dai legaci del peccato e del maligno e ci renda figli di Dio nella in questo bagno benefico che è rappresentato ed è di fatto reso efficace dal sacrificio di Cristo dal suo sangue versato per noi quindi capite che c'è dentro questo schema che non è così assettico come potrebbe sembrare tanti ragazzi tanti giovani ma la messa è noiosa così ma non sanno in realtà che cosa si sta facendo non ci entrano neanche alle volte le persone per accogliere il messaggio che ci sta dentro l'esperienza che si fa e quindi restando solo alla patina è chiaro che diventa può rappresentare qualcosa di tedioso ed è per questo che il concilio Vaticano II ha raccomandato la partecipazione attiva e fruttuosa dei fedeli al sacrificio eucaristico cioè che vuol dire che i fedeli uno dei compiti propri dell'assemblea delle persone dei fedeli è quello di aderire a ciò che si sta celebrando e per aderire bisogna conoscere ecco bisogna sapere che cosa sta avvenendo durante il rito e quindi abbiamo fatto un po' un excursus della struttura globale del significato dell'azione liturgica del sacrificio eucaristico ci mancano solo i riti di conclusione che proiettano l'assemblea verso l'esterno qualche volta una benedizione più solenne realizza bene il legame con la vita del cristiano e della comunità del mondo magari lanciando con una piccola sintesi liturgica anche di tipo latreutico così cioè di lode o di orazione ciò che si è celebrato per proiettare l'assemblea nella vita per inviarla nella vita quotidiana così ogni messa trova il suo compimento in una vita al servizio del mondo secondo il cuore di Dio giustamente i riti di conclusione possono essere considerati come una liturgia di ingresso nel mondo dei battezzati che si lasciano continuamente santificare dall'eucaristia per la consacrazione del mondo amato da Dio ma il silenzio dopo la comunione suggerisce l'altra forma di realizzare la preghiera liturgica la preghiera contemplativa e la meditazione attraverso le quali il mistero celebrato illumina il nostro orizzonte interiore e ci fa rivolgere verso il padre il cuore che prega trova infatti nell'evento continuo dell'ascensione il suo vero spazio e quindi non siamo inviati solo ai fratelli ma anche siamo inviati al padre come Cristo siamo proiettati in questa visione in questa contemplazione della presenza di Dio nella nostra vita siamo mandati ma in questo essere mandati nel mondo non siamo da soli siamo sempre accompagnati da questo padre buono e generoso che non ci fa mancare nulla che risponde alle nostre preghiere e che ci soccorre e ci esaudisce donandoci la pienezza del suo santo spirito se noi gli apriamo il nostro cuore la liturgia della messa vissuta e compiuta in questo modo realizza a livello più alto il necessario passaggio del cristianesimo come già nel giudaismo dalla nozione pagana del sacro a quella biblica della santità Gesù dice nel capitolo 17 di Giovanni non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno e questo è anche il significato di questo tornare di questo andare verso il mondo con il padre io non aggiungerei nient'altro perché mi pare che il tema è completo nelle sue parti essenziali quindi la messa con questa struttura di base che ho rappresentato in due modi come una struttura architettonica gli scalini le due colonne il tetto poi chiaramente la porta che ci fa entrare in comunione che sono i riti di comunione oppure come raccontavo una spiegazione più esistenziale per i bambini ma è buona anche per noi adulti in modo più dinamico l'invito a cena la festa in una casa di amici ha anche questa i suoi riti dal suonare il campanello al bussare pulirsi le scarpe entrare salutarsi raccontarsi e condividere la vita attraverso le parole la liturgia della parola poi sedersi a mese iniziare il pasto e in questo pasto donarsi la propria compagnia donare il proprio corpo dunque spezzare il pane e infine anche il congedo anche in questi momenti sempre un po' difficile da realizzare per cui carico di promesse di buoni propositi in cui si dice ma ci troviamo ancora faremo ancora no ci si trova ancora si ritorna per dire proprio la gioia di essersi incontrato ma anche una missione di crescere sempre di più in questa amicizia quindi vedete come la messa non è qualcosa di estraneo alla vita di avulso dall'esistenza è un sacrificio di comunione nel quale Dio desidera incontrare i suoi figli mettere su famiglia e alimentare i propri figli e la propria famiglia con la modalità della festa dentro la quale si realizza però anche questo grande sacrificio d'amore che è Gesù Cristo che si offre al Padre per la nostra salvezza che in ebraico la parola salvezza ha anche un significato molto molto concreto vuol dire fare spazio dare spazio donare spazio quindi ci dà lo spazio della vita eterna lo spazio dell'amore di Dio donando il suo corpo per questo spazio per conquistarci questo spazio questo posto accanto a Dio io concludo qui il mio approfondimento continueremo per l'ultima volta ancora insisteremo su questa domanda del compendio del catechismo della chiesa cattolica la numero 241 qual è il centro dell'anno liturgico parliamo della domenica pasqua della settimana e una volta prossima parleremo di un tema di grande attualità in questo momento per la nostra diocesi anche se sono ormai più di 50 anni che se ne parla nella chiesa universale ovvero le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero un punto un po' dolente anche nella condivisione che è stata fatta in questo cammino sinodale della nostra diocesi che poi è sfociato nel documento degli orientamenti circa le unità pastorali scritto dal vescovo Beniamino Pizziol spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro nel quale documento si dedica un punto un orientamento proprio a questo tema le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero ma ne parleremo la prossima settimana io concludo qui il mio spazio rinnovando a tutti voi l'augurio di una buona e serena giornata in nostra compagnia